Ciao ragazzi, stiamo venendo qui a vedere un po' di case da comprare. Perché oltre ad aver vinto il soggiorno, ci regala pure la casa. Allora, abbiamo visto un po' questa, le belle stanze grandi, però sono tutte da rifare qua. Però c'è i musifoni, è una villa proprio. Mamma mia, no, queste placate. Ma quanti placate? Non puoi scassare mai e fare il bambino. Allora, questa qui è un affare, con 550 mila euro. C'è il bidet, c'è il bidet. Logicamente è tutta proprio da rifare, da capo a piedi. Non so che c'è. Però entra il freddo da lì, eh. Bisogna chiudere. In mezzo che ce ne andiamo, quando c'è qualche gnometto, sai quella roba? Tipo d'orino, cose come questa. Però è bella, cammino qua. Non è male, ma c'è troppo, troppo di travò. Qui c'è troppo di travò? Ah, come c'è troppo di travò? Ah, però c'è troppo di travò? C'è una cosa, sì. Qui ce, cioè in quest'arriamo, c'è troppo di ponderiamo. C'è troppo di travò? Non, qui c'è troppo di travò, non c'è pure il gas qua è una grande cosa perché il gas siamo andati a vedere un'altra casa però quella è diversa questa qua diciamo è per fare un affare nel senso di comprare tutta la casa compresa il terreno 500.000 euro e quindi però di metterla a posto una volta che lo metto a posto poi guadagnarci un bel po' di soldi però ho veramente molti lavori da fare allora ragazzi qua siamo all'ordine del Ducoff-Badiera però comunque non metto i voti perché non è giusto semplicemente perché non per notto e quindi faccio solo vedere un pochettino e dopo vi faccio vedere la panoramica che si vede da qua sopra che bellissima ah e quattro stelle siamo all'hotel Ducoff un po' moderno un po' troppo moderno le mie le cose bello eh sì cavalli con ah il ristorante è qua allora il nostro ristorante può fare un po' di più può fare un po' di più gratuitamente la ringrazio sono operativo va bene la ringrazio comunque grazie mille a posto bello è se vede pure il mare ma dalla vista panoramica il mio mondo è proprio una figata sta pure la cosa per atterrare gli elicotteri ma dietro le piante che viva lato io devo andare qua questo è proprio bello non rende mai come dal dio mi da fastidio è questo fatto che non ci sono le finestre no che non ci sono i balconi bello però aspetta non facciamo un bello oltre poi c'è stato quest'altro lato qua che iniziano poi i campi da colpo però ci sta anche la piscina è messo totalmente nella natura veramente molto ma molto interessante logicamente poi essendo un campo da golf è enorme qua ci sta il ristorante qua il ristorante è là non l'ha che dice è molto bello anche in questa quale sta la buona ah beh logicamente questo non è solo una cioè il campo è infinito ragazzi quindi bellissimo che pace che pace ma la una mandare poi faccio vedere il panorama che ti vede da qua sopra ecco ecco Qua è dove siamo andati e te, qua dentro, che io mi sono iniziato a giocare all'una con l'una là, tutto il campetto. Ah, mi è chiuso? No, no, no. Vuoi vederlo? Sì, sì. Sicuramente vi faccio vedere un po' dalla macchina all'esterno, però questo qua è il clou. Qui è dove si prendono tutte queste cose, le mazze da golf, eccetera. Voilà, allora ragazzi, mangiamo qui, così dopo andiamo a vedere meglio un po' tutte le situazioni e criticiamo anche il... Allora, lui ci vuole offrire il pranzo qua, ti farà piacere? Con il mio è al piscino? Eeeh, che fai qua? Sania. Umidità. Quindi ragazzi, mangiamo qui. Nicolazzo è molto contento perché lui gioca a golf, quindi... È la mia unica passione. In questi giorni, dopo veniva qua, è pure una bella partita. Come funziona, non lo so. Però... Che c'è? Che c'è? Allora, vediamo... Quello che non parla francese. Vabbè, noi ieri sera siamo andati e uno parlava spagnolo. Scusate, voi non parlo molto. Al parasole siamo andati. Sì. No, non mi è piaciuto. Però la pasta non era male, che devo dire la verità. Eh... Sì, è un servizio molto grezzo. Diciamo che a parasole vorrei provare la pizza. No, ho visto tante delle pizze. Allora, un brindisi. Un brindisi. Eh, alla felicità di tutti. Sia a noi che a quelli che stanno vedendo i video. Sia a noi che stanno lavorando. Che state lavorando. Ora, noi... Noi andiamo a giocare a golf. allora ragazzi abbiamo fatto due di queste però si è imbrogliato il cristiano e quindi sta portando una tomata e mozzarella non fare più rapido allora qui è del pane con una marea di cose buone non è buono pesto mozzarella di tutto c'è stato è buono non buono guala normalmente voi napoletane dite sempre che la mozzarella è la migliore in assoluta è questo non voglio dire però la burrata come la fanno qua è straordinaria una burrata in normandia proprio perché loro sono bravi anche a fare burro ma è tutto il buono tutti i formati come la pelle no è una cosa che io non sopporto la tartare non sopporto io non la sopporto non so come il padre non è mangiato orchi, il caffè arriere il caffè arriere ah voilà tutto arriva il tabasco guardate là ti parti la sette metta la vianda oh la mia la coppia questo è la devo tagliare No, no, mettiamo la vianda, la vianda. Tutta? Tutta, eh. Quello è uomo. Qua c'è il ketchup, i capperi, l'erba cipollina. Oh, là, qui? Sì. No, qua, dentro, in queste foglie. Ah, va? Sì. Qua, qua, il ketchup. Però non lo fate cadere addosso, s'il vous plaît. Ma là? Eh. Allora, là penso che siano i cipolli. No, questi qua penso che siano i capperi, odora. Allora, a te non ti piacciono. Allora. E che? Va. Persino? Qua, se l'erba si può lì, questa qua penso che siano i cornichons. Tutto d'ora però, io non lo so. Aspetta, tu facci, eh. Non, non. Il va a morire Paolo, come ha raccontato! Non già watch! A me ha raccontato il dopo l'Italia! Il ketchup, tiensr c'è,Dasso! Il ketchup, tiensr c'è, mi piace! Il va a morire il dopo l'Italia. Il va a morire il dopo l'Italia, quando tu es, va a morire! Eh, ne va, ne va, ne va, ne va, ne va, ne va! Am 그다음에 le trentas potè, E assolutamente senza condizion Il servizio è un po' discreto, però non è il discorso, ma mi dà l'impressione che sono fumati, se ci sono fatti una canna là dietro, ma non so, non è un'impressione, è una cosa del genere, c'è allegria però, ma dai, però nel resto non male, un hamburger mezzo mezzo, una tartare non me lo colite perché non lo trovo. Il piatto rimane più a domani e rimane. Perché non vuoi provare? Il piatto l'abbiamo lasciato noi. E' meglio ridere, va. A questa distanza bucherà? No, questa te la faccio pagare. Mi è arrivato un messaggio da un passerotto, vedi ci stanno tanti passerotti, li vedi? No. Mi è arrivato un messaggio da un passerotto che mi ha detto che tu non hai fatto pagare una corsa a Nicolà Silvio. Questo messaggio è per te Mario Quaranta, ma no, ricordatelo, che posso faticare tutta la vita, voilà, ho detto. Pazzettino, dopo ci facciamo anche il pezzettino. Però c'è il menù del ristorante, come si chiama quel ristorante? Il weekend. Il menù, tutto compreso, a 12 euro e qualcosa là, la torta Normandek, è veramente fantastico. Ma anche il caffè, è vero che a Napoli non c'è proprio. Il mio era lungo, non c'è neanche più gusto in buca. Questo prende un bel voto. Allora... Salute! Un pezzettino. Ma com'è? Dolce? No, secco. Sembra un po' un whisky torbato. Ma fa digerire? Sì, sì, sì. Ho provato ieri sera. Fa fare il rottino. Come di bebi? Come di bebi, sì. Voilà, grazie. Sì, in un commercio. Prendi 5 anni. Come? Como hai? A cui aveva come va arrivare? E' vero veramente ser Kenya. E' vero veramente serena? Evä bene, certo. Sì, ma.. Poi ci sta anche al area shopping. Datele scarpe per goffa. Come'm a farlo? bello eh? quindi quello ti piace quanto costa? eh quanto costa? eh queste sono sulle 180 euro no 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 99 mmm che bello poi questi sacchi per bello proprio bello copri fermi no questa è una figata bello c'è anche questo questo è qui ma questo è per mettere che cosa? copriferri ah i copriferri del golf sì belle eh? non mi fai vedere tutta la bucina è più che lente stanno sono le macchine per per i copri quelle condietrate due vostre quelle sono belle e guarda il belaggio ah ragazzi do la responsabilità a Nicolaz di Dio di farvi vedere questo ben di Dio voilà quindi meglio di lui con un cognome del genere che cazzo ma pesano queste mazze? nooo sono fai conto questo quanto sale in quella in quel bagaglietto totale sei sui 4-5 kg no di prezzo di prezzo è il medio sei sui 2.500 quanto? 2.500 ma come si spegne la radio? abbassa il volume sulla rotella a sinistra qui qui guarda che lunga è sai la strada? non lo so penso no dopo la facciamo qui a scendere perchè con la led diretta ah ok voilà ah bon? penso di sì non lo penso però però ah la cintura ah si e voilà che bello eh qua per il golf viene o tragitto va 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 è il corpo che si mangia la zocca la zocca allora riprende questo effetto panoramico fratello facciamo vedere a queste persone a qua fanno i calvadossi si c'è la riserva del calvadossi che cosa c'è dentro almeno il goventù ah che bello alla montagna facciamo vedere a queste persone che sono perse per non indovinare cosa ce l'ha scritto una volta dovevo scegliere su me eh che è su? eh il concorso che ho messo ah non è che qua per ora solamente siete I pepi si vedono però Boschi e semi Oh, eccolo qua, un po' di paesaggio Piano piano che vediamo tutto Bello, sono pure le mucche e i cavalli A pascolare Immagina qua il periodo della fioritura Tutto bello colorato, con i fiori Tutte le cose che stanno nascendo, no? Mamma mia Deve essere veramente una bella sensazione Ah, il tabaccaio Bar tabacca Eh, ma qui non ce li hanno Vediamo se posso fermarmi un secondo Federica vai tu It's turchese Sì, ma non le hanno Prendi due pacchetti Non le hanno, ti dico Tu chiedi Penso di sì, vero? Tu chiedi Eh, chiedo Canisciune feste Sì, le vedo la Federica, fatele dare Scendo? Sì It's turchese Paolo, deve passare uno, mi sa che devi metterti un po' sulla destra Qua è un cioccolato bianco molto buono Però è bianco Se non piace, è bianco 81 m² D'appartement 42 salone Ah, è latte No, no Pa latte Bianco Ah Salle de bain 2 salle de douche 1 salle de bain Com'è? Buono Questi qua mi piacciono Ma non c'è 600.000 600.000 Sì 650 On ha di 600 C'è il proprio che dice Voilà, io cerco questo a noi Ah, adesso abbiamo finito di pranzare Qui si chiamano in un t Noten Dopo loro ti andranno a fare un diretto Face a la merda E noi Su un camp Tu vois che l'achete là C'è di la folie C'è di dritto C'è di dritto C'è di dritto